Da dove cominciare? Cominciamo forse dall'ultimo convegno che c'è stato qui due settimane fa, quando alla fine del convegno fu annunciata da parte nostra con grande determinazione, realtà e affidabilità politica, oltre che serietà in tutti i sensi, di voler andare avanti nonostante quel parete o proprio uso e truccato, ancorché di forme sì da parte dell'amministrazione provinciale di Geserta nella persona dell'architetto Fragassi, quindi nel voler andare avanti, il giorno dopo leggiamo il sito di qualche consigliere di opposizione, io non li leggo, per fortuna di tutti non leggo mai, assolutamente, li leggerò tra qualche anno quando terminerò l'esperienza politica e amministrativa qui ad una volta a via terra, mi è stato riferito che già stiamo annunciando a chiare lettere da parte di qualcuno al momento e al giorno succederanno, vedrete, saranno inevitabili, insolabili, ci saranno altri sequestri, ci saranno informazioni di garanzia o qualcosa del genere, quindi il primo dubbio che è chiesto oggi è come si fa ad essere a conoscenza di provvedimenti che dovrebbero essere, dei provvedimenti cautelari per la persona informata e soprattutto con notevole anticipo e quindi registro solo che a distanza poi di una settimana, quindi dopo 3-4 giorni, questo frequentatore assito della caserma di Piazza Pellù, questo frequentatore assito, insomma, aveva ragione, tanto è vero che c'è stata informazione di garanzia, ovvero la notifica che siamo, saremo indagati, non so ancora per quale tipo di idea, rispetto alla vicenda di questo megacambo di calcetto formato, questo megacambo di calcetto, questa struttura sportiva, mi diceva ieri un impianto del TG5, mi parlava di questo valasporto dove deve sorgere, quanto ho visto il progetto, ed era quattro reti reticolari, quattro reti reticolari, con due containers per gli spogliatori, due paretti all'impianto, insomma l'ho visto un pochettino per dire, perché c'è fatto un lavoro in uno, mi raccomando che è questo settore. Conciò non voglio dire che la magistratura sul piano conale deve andare avanti, fare la sua parte, ci mancherebbe, ma diventa strana tutta una serie di coincidenze, di stravenze che mi lasciano un po' perpressi, ripeto, sto parlando di un gambo di calcetto, rilasciato con una delibera di consiglio comunale, organo deputato, rilasciato, in perfetta conformità, ripeto, in perfetta conformità con l'articolo 14 del TPR 380, recedito con un atto di delibera di consiglio comunale, di modifica al regolamento dei diritti, integrando appunto con questo articolo e questo articolo a disposizione di tutti, a disposizione di tutti naturalmente, se può essere scaricato anche, a un certo punto va a prova di cosa è possibile in base all'articolo 108 che recepisce il TPR 380 costruire in variante, tra virgolette, nelle zone omogenee e agricole, allora interventi tipo turistico sportivo, può aprire parentesi, o aprire parentesi come dicevo, cambio all'aperto di calcio, calcetto, tennis, pista da bar, bocci, suono attressato per bici, relativo attressato di servizio, non devo aggiungere altro, questo è quello che prevede il nostro regolamento di inizio, che ha recepito una legge nazionale, quindi se mi si vuole mettere sotto indagini, non mi si vuole contestare qualcosa, va contestato eventualmente l'atto di modifica regolamentare, non il campo di calcetto rilasciato in terra, così come prestigio i regolamenti, no, la forza tu l'avete fatta eventualmente sulla modifica regolamentare, questo è a disposizione, senza entrare al medio della questione, senza voler strumentalizzare, ma limitandomi semplicemente a dire, ad affermare che, l'avevi fatto bene intervenire a presentarvi relativamente, insomma, io sarò anche, sarò anche Mattia Denaro, come siamo, più grande la di tanto qual è, vista la caccia che c'è stata a lungo qualche settimana fa, con tre auto dei carabinieri, con un cellulare, sono primi in tutti gli uffici qua e qua, sarò anche Mattia Messina Denaro, Mattia Messina Denaro, ma ho la fortuna, la gioia e mi sento gratificato di guidare una maggioranza di persone per bene oneste che non hanno nulla da invidiare a quanti esposti prima di politica, sia a livello di Consiglio Popolare, sia a livello di dirigenti di partito, per cui veramente c'è stato, non è un attacco alla stampa stamattina, non ci mancherebbe però, è anche una varezza da parte di chi? Perché non tutti i politici sono cattivi, non tutti i giudizi sono cattivi, non tutti i giornalisti sono cattivi, stanno sì cattivi, simpativi, antipativi, perché ha detto in stampa di un nemico politico, perché hanno un feeling politico, perché poi nessuno, questo è vero, vero, ci sta, ci sta, ci sta una disinformazione, perché nel giorno in cui avviene un avviso di garanzia del genere, un avviso di garanzia del genere, e per quanto mi riguarda ne poterà altri 30 di campi di calcetto in deroga al piano urbanistico comunale, poi mi spiego di garanzia del genere, ma non come atto di sfidere quello della magistratura, verso lui tu trancora, tu trancora la fiducia, e non è un fatto strumentale, perché alla fine accetterà e chiarirà, perché è la via di un procedimento, non è la conclusione di un procedimento, è qui che non si chiama, stiamo indagando perché riteniamo che accettare, non c'è problema, però ci venisse data la possibilità di andare a chiarire in termini rapidi, non aspettare due anni e stare appese e fare in modo che la vicenda del genere viene assemblata una vicenda più generale, che venga associata a tutta un'altra serie di questioni laddove sono state riscontrate, anche e soprattutto a questa amministrazione, una serie di riformità. E' vero, non è che voglio mettere la testa come lo struzzo sotto la sabbia dicendo che le concessioni, è evidente che ci sono delle consulenze che sono concessioni legittime che costruite senza un preventivo piano dell'ottienzazione, dove ognuno si assume la responsabilità, chi ha costruito, chi ha fatto i perditi, il Consiglio Comunale, maggioranza o concessioni, ce ne sono accendinati, non ha fatto bene con la costruzione rilasciata concessione, progettistica, ce ne sono accendinati. Per me è un'attività legittima, cioè legittima che uno facesse la propria professione, non è legittima, non è corretto però che un punto a favore, un punto a favore, come la Vicenza invece e Biancaggia quello di ieri, lo punto a favore diventa un'attività legittima, se ne hai detto due pagine, tre pagine come l'altra volta, quando invece nello stesso momento, la sentenza di Cassazione, con una sentenza di Cassazione, viene contannata sedere per quella strage da altre cose, se ne hai detto mezza questa pagina e questa vicenda di Orto e di Adela, chissà che cosa, insomma, due pagine intera, rimescolando e dicendo le stesse cose, omettendo di fare un'informazione corretta, perché sulla questione di ieri, sulla questione di ieri, la concessione viene rilasciata nel maggio del 2006, non per dare responsabilità d'altro, io non ero nemmeno Consigliere Comunale del 21 ottobre del 2005 e sono rientrati nel giugno del 2006, io non ce l'ho nemmeno, però è sempre responsabilità di essere una responsabilità politica e morale. Viene rilasciata, dopo due anni, quando sono iniziati i lavori, in corso, quindi si può ancora prevenire ed evitare che una trusfattame dei cittadini venga consumata, viene fatto un sovravuoco, dal tanto decantato, grande ingegnere della Commissione Valerlingua e grande ingegnere persona per bene su cui non roma da lì, fa il sovravuoco agli atti e si limita semplicemente su questo cantiere di ieri a fare un'ordinanza di sospensione, non l'avvio del procedimento di revoca con una costruzione in corso, il che se avesse fatto sequestro in quel momento, revoca, ordinanze e quant'altro, avrebbe evitato, fa una semplice ordinanza di sospensione, per l'esattezza la numero 68 del 2710-2008, 27 in gestione commessa reale, a cui viene fatta la risposta di voto di delusione dagli intestatari della concessione, da parte dell'Avvocato Abbatuto, il 17 di febbraio, il 5 di gennaio, anzi, il 17 di febbraio, il 5 di gennaio, il 17 di febbraio, i proprietari dicono, non ci interessano niente, noi riprendiamo il lavoro, arrivederci e grazie, caro responsabile, pare lui. È una concessione a fianco, è la stessa cosa, quello è l'unico blocco, parte è stata sequestrata, parte non è stata sequestrata, sono due concessioni in un cinale, la stessa blocco, una a fiancata, tre, se qualcuno vuole eccedere, nel momento, le 68 le si chiedono a 5, è uguale, stessa, stessa stecca, stessa proprietà sicuramente, stesso tipo di intervento, stessa destinazione e stessa destinazione del solo, è chiaro, questo viene sospetto, riprendono i lavori, ci siamo insediati noi. Quello che io credevo che fosse un punto a favore, cioè quello lì di, facendo questo lavoro di monitoraggio delle concessioni da parte del tecnico sceriffo Valentino, lo definito così, continuando a controllare, indefine, fa la procedura di regola, che viene imbugnato, fa l'ordinanza di appartimento a giugno, imbugnato, fa l'ordinanza di acquisizione a settembre, agli altri, imbugnato, viene contestata una, come dicevo, una corresponsabilità da parte dell'amministrazione comunale di oggi, nella persona del tecnico Valentino, che godeva e coda la mia massima tema, soprattutto quando mi dimostra con i fatti che lui è liggio, anzi, si spinge più in là, facendo degli atti che io non l'ho condiviso, non ha fatto l'abbattimento come l'ha fatta più, non l'ho condiviso e non lo condividerò mai, autonomamente, fate gli atti, gli viene contestato, ieri, che avrebbe omesso di fare l'ordinanza di abbattimento e l'ordinanza di acquisizione, atti che si possono scaricare da qualsiasi parte, gli viene contestato. Allora, voglio dire, come possono sbagliare, non ci manca preoccupare, può sbagliare anche un magistrato, qualche consulente o qualcuno che fa l'informativo, insomma, animato frettolosamente da mettere in crisi un procedimento come anche in altre circostanze, basti pensare, in due anni, senti, mi sono contento che ci fanno una crisi di garanzia in questi quattro anni, quattro anni con 6-700 informativi fatte perché stanno 6-700 richieste agli altri di qualsiasi cosa, quindi siamo, ma sono felici che siamo monitorati anche quando si va in bagno, quando gli andano a chi, come metterà, senza problemi da parte della locale stazione, continuano a fare 600-700 richieste fatte di qualsiasi cosa, sono contento che siamo in Giambazzone in questo caso di garanzia, per il quale, ripeto, non vi è stato nessun cambio di densitazione d'uso, era agricole di massa agricola e nel pochino itinere, è stata approvata un'osservazione per fargli un danno, un danno, cioè quello lì di fargli un'infrastruttura e un vincolo permanente, perché se agrino voglio sparare un domande, diventa edificabile, ma se ci metti un vincolo sopra, quello lì di inedificabilità, tale rimane, altrimenti diventa difficile un domani giustificare le ipotesi di variate. Per cui in questo caso, bisogna solo di, come dite, chiedere a questi consiglieri comunali e chiedere altresì, senza nessuna strumentalizzazione, ai titolari della concessione e ai fratelli di chiederti scuse se con qualche mio atto di consiglio in qualche modo mi è esposti come grande no di speculatore, non è per qualche parte, no di speculatore, e che si è a parte che in perfetta continuità con una male gestione, che c'è stata, rispetto alla questione urbanistica, che c'è stata, dipende, nel passato rispetto alla gestione urbanistica, sono associati e quindi si condividono, perché voi c'è anche il concorso ovviamente, no, si condivide questa strategia di perseverare e stare nella totale illegale. Spero di essere stato chiaro, voglio aggiungere un'altra cosa, dal dispositivo di ieri, di sequestro, mi spaventa un'altra cosa, che il consulente della procura dice una cosa rispetto all'applicazione dell'articolo 38 e come intervenire e risolvere queste questioni. Il TAR dice un'altra cosa, perché il TAR ha sospeso i due provvedimenti di abbattimento e di acquisizione. Il TAR ha sospeso, e attenzione, quei provvedimenti che Valentina ha fatto in Ipotempo, nel mese di giugno a settembre, hanno ottenuto la sospensione da parte del TAR, quindi l'autorità di vista di vicino a notte, il consulente della procura del Camus, l'ingegnere come si chiama? Fracassi, mio amico, Fracassi, dice tutta un'altra cosa. Per il giorno, peggio che a tardi notte, ci non è più competenza nostra. Il comune, ripete, una soluzione nel piano all'attacco, quello lì dell'articolo 38, insieme ai piani più urbanistiche, attuative, che prevede una soluzione dolorosa, ma non è un condono, non è un condono mascherato, tra l'altro. Allora, si è creato una sorta di cortocircuito. Allora, mi domandavo i cittadini prima, dice, ma come dobbiamo fare? E a questo punto, se uno dice una cosa, un'altra cosa, ho fatto una realtà abbastanza preparata, sia al Ministero che al Prefetto, a questo punto, si è creato un cortocircuito. È vero che il parere della provincia è un parere consultivo, non obbligatorio, o meglio, è obbligatorio per la completezza degli atti, come quello di tanti altri enti che ancora devono far pervenire il parere, l'autorità di Bacini, ARPAC e qualcun'altro. No, l'ASA lo parla di impianto, favorevole in parte, genio civile e qualcun'altro. Quindi il piano aggiunto può essere discusso e approvato o rielaborato in questo caso. Ma è pur vero che il parere della provincia è un parere obbligatorio, tra i pareri è quello più obbligatorio. Allora, se il tecnico della provincia chiamò di giù che vogliamo, è giù che c'è la telefonata sempre dalla stessa persona, la orta diadella per fare presta, eccetera, sempre dalla stessa persona, ha giù per queste queste telefonate. Perché tu sai che rimetti? Il motivo o i motivi, quando prima qualcuno mi chiamerà, secondo me è una minaccia, qualcuno mi chiamerà e sarò prendendo, secondo il mio modesto parere, anche con qualche documento di testimonianza. Però non possiamo contenere un altro del parere della provincia. E credo che la vicenda non possa, non tenere un altro dell'autorevolezza, ma non che dici sciocchezza e non accetta o non accetta. Così come al cuore leggero non si accetterà e si comprenderà allo stesso modo. È evidente che c'è una situazione su un contesto che è un po' preoccupante, insomma. Io sono il primo ad essere il più aspetto, oppure il vero, il vero, unico, grande delinquente di questa amministrazione di questa maggioranza ad essere preoccupata. Figuriamoci, diciamo intanto dalla presenza che il primo effetto di tutta questa vicenda ha fatto in modo che la maggioranza diventasse sempre forte e coesa, ancora di più, perché si comincia pure a capire, poi è un momento, quando è toccato direttamente e si rende conto, e dice ma così è che ti vuoi trovare in una situazione, non è che, cioè mi stavo fumando in porto a terra o chissà che cosa, che è la confessione da parte di qualcuno, assolutamente, insomma, quindi è del tutto evidente che uno può incappare in un'altra attività amministrativa anche in qualche fatto del genere, però è pur vero che poi, facendo i dovuti accertamenti e soprattutto testimoniando con atti concreti e riscontri, è normale che dopo la questione si chiarisce che questo è abbastanza tranquillizzante. Chiarisco un'ultima cosa, prima di concludere il posto a disposizione, avendo ormai di qualche domanda a parte dei giornalisti presenti, degli inviati presenti, che ringrazio e saluto, ci mancherebbe. Chiarisco che l'esposto alla nota pubblica che ho fatto, è il più determinato, non un fatto in sé, difetto, anche se difendo, difetto, sia l'atto del imparativo di consiglio, sia la professionalità e la rigidità morale dell'ingegnere valentine, sia ovviamente, insomma, tutti i consiglieri comunali che insieme mi hanno condiviso, anzi, vi dico una cosa, se andate a vedere l'atto del imparativo nella parte del fronte spizio sono assente, mi hanno banali, poi non lo so, sono stato inviato, io per fortuna che mi hanno inserito poi nella parte finale che ho avuto, altrimenti comunque potete parlare, allora ero compiuto un imbroglio, un sindaco, allora se vedete la delibera, io nel fronte spizio sono assente, poi sono inserito, non so come, nell'atto del imparativo poi arriva presente il sindaco e la votazione, io mi ricordo che era proprio a sé però, e la presenza c'era, voglio dire, per testimoniare che l'appuntamento è realtà, sotto tutti gli aspetti dell'atto del imparativo, ero preoccupato, anzi, non intervenisse anche il me, questo avviso che c'era un'indagine in corsa, altrimenti chiunque era portato dal panzale, insomma, ci ha fatto un'attività, 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 un'attività perché c'era qualcosa che con l'attività non andava. Nella lente della pubblica e per il trattamento che mi è stato usato, insomma, partiamo, una caccia all'uno, mentre io mi trovavo in caserma alle 10.07 con sette testimoni che stanno lì, il consigliere, un dirigente, un bar, sette minuti in quel momento ci ho saputo che c'erano da gli impegni telefonati, che c'erano tre macchine con 10 verso 20, uno spreco anche di... però ripeto anche che quello è un atto di cortesivo quello di andare in caserma, come è stato notificato, è un atto di cortesia. Se invece qualcuno dice, a partire da responsabile di Piazza Bermuda, che sì, che mi ha telefonato, è un bugiardo, ma un bugiardo, perché non sono stato telefonato e avvisato, dovevo legarmi, sono stato avvisato il giorno prima o due giorni prima dall'assessore Solviglia che dice, mi cercano, c'è una rifiuta. Giorno a 9.30, sto in Caserma, sono arrivato alle 10.07, ma l'ha detto un caserma fratta minore, ma già dalle 10.00-10 c'era la caccia a loro con Mattia Messina e Denati, insomma tutti intorno, perché evidentemente mi meritavo questo spacco, questo trattamento un po' diverso, perché dovevano con tanta gente a casa, nel Peno o nel Marma, ancora tanta gente a preoccuparsi che è successo, che non è successo e quindi, ma ne ho sentito anche di peggio, qualcuno ha scritto addirittura che il suolo di proprietà è stato sequestrato, che c'è stata una necropoli sotto il terreno che è stato trovato, che i fratelli conti sono chi prestano ogni, insomma ne ho sentito di tutti i colori. Ma ce ne vuole per abbattere, è uscito troppa poppa da qualche giorno, ce ne vuole per abbattere il sottoscritto, soprattutto quando trova di scontro ancora di fiducia nella cittadinanza e nella maggioranza. Caro dottoressa, ogni tanto si parla di all'altro, gente esasperata, io cammino in mezzo al Stato, discuto con la gente, mi fermo a diverse parti, d'incontro, non gli faccio un promesso di farci cacchiere a vuote, gli dico come stanno le cose, quando sono e saranno gli beni miei e nessuno mi aggredisce, mi aggredisce più con i posti di lavoro, le esigenze purtroppo di altre cose, ma continuano a riscontrare una fiducia, continuano a riscontrare una fiducia e come recitavo un manifesto di maggioranza che ho sposato in pieno l'ultima parte, non chiederemo la testa davanti a chi che sia, andiamo avanti nella nostra strada, ma chiederemo solo davanti al popolo sorano al momento del risultato. Aggiungo un ultimo agosto, non andavo e non vado alla ricerca di confessione poveretto, poverino, che successe così, qualche altra cosa non è fatta legge, perché preferisco di stare iscritto 1500 volte per questi anni nel registro degli indagati, che è stare in capo in testa, sempre a Santa Maria, ma nel certificato dei fallimentà o delle professionalità che non è fatta legge. Grazie. 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 Grazie.